Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Va bene a voi spettatori, non cambiate canale. Tra poco inizierà la mia intervista. Grazie Pietro. Nella nuova puntata abbiamo ospite, allora, attore specializzato nel mondo del doppiaggio, ma anche direttore del doppiaggio, dialoghista, Pino Pirovano. Allora, io a questo punto ti farei una domanda. Capitato, perché, allora, le piattaforme pretendono che si rispettino una determinata onda, così come tu hai fatto tanti videogiochi. Lo rispetto dell'onda permette, sì, che il gioco corrisponde un pochettino alla voce, corrisponde effettivamente al gioco. Però ti hai capito che l'interpretazione è tecnicamente perfetta, ma l'interpretazione è piatta. Ha forse anche dovuto a questa necessità di correre nel tempo, cioè tempi veloci? Allora, diciamo questo, che un attore dovrebbe, anzi deve essere abituato e deve abituarsi a saper gestire i ritmi interpretativi. E quindi è chiaro che una battuta su una forma d'onda un po' più larga o più stretta hanno un ritmo diverso, però intenzionalmente tu dovresti mantenere la stessa intensità, perché è questo che deve fare un attore. Guarda, c'è una qualità che alcuni doppiatori hanno istintivamente e altri che invece devono acquisirla, che è proprio quella di riuscire a cambiare di poco, in modo impercettibile, un ritmo interno alla battuta, in modo tale da riuscire ad andare perfettamente a sync. Ci sono dei doppiatori che in una battuta magari di due, tre, quattro righe, dove l'adattamento è fatto anche in modo discreto, ma cambiano un po' i tempi intenzionali, riescono ad adeguarsi immediatamente. Altri che hanno necessità di togliere o aggiungere una parola. Quindi sulla forma d'onda del videogioco è chiaro che tu devi avere come premessa che l'adattamento in italiano di quella frase stia in modo comodo o comunque congruo. A volte sei tu stesso che proponi o suggerisci al direttore del videogioco di togliere o aggiungere una parola, a volte proprio non ci stanno. Beh, quando non ci stanno, soprattutto se sei in un tempo stretto, devi essere assolutamente preciso nell'inizio e nella fine della battuta, lì la battuta la devi cambiare. Se non puoi farlo perché l'indicazione del cliente è no, deve essere detta così, inevitabilmente tu la dirai velocizzando e perdendo un po' di qualità. Però devo dire che questa cosa non avviene spesso. Però è vero questo fatto che ormai le piattaforme stanno per loro comodità di programmazione, soprattutto di effettuazione tecnica e tecnologica, ti stanno chiedendo di andare sull'onda d'onda, che rispetto al doppiaggio per come si è sempre fatto in Italia è un po' un'eresia, oserei dire. Ma tant'è, le cose cambiano, bisogna abituarsi. Il che non vuol dire accettarle supinamente, è che devi fare uno sforzo in più. Per esempio, chiedere a un traduttore o al dialoghista di essere molto più attento. Se in un fuoricampo io devo rispettare le forme d'onda e ci sono delle pause tra una frase e l'altra o all'interno della frase stessa, beh, una volta per comodità magari si aggiungeva una parola, due, era più comodo. Non ti vede nessuno, non devo seguire un labiale. Beh, adesso invece se devo rispettare la forma d'onda devo chiedere al dialoghista di prestare molta più attenzione. E questa cosa si complica quando lavoriamo sui cartoni animati. Perché sugli esseri umani questo problema sul campo, sul doppiaggio a sync, non si pone per certi versi. L'attore respira sui tempi, sui ritmi e quindi la forma d'onda è comparata alla forma del movimento labiale dell'attore. E no, sui cartoni animati, soprattutto quelli giapponesi, le cose, come ben sai, sono diverse. Non fosse altro che nel 90% dei casi il cartone giapponese parte sul muto, quindi comincia a battere, non c'è suono, poi comincia il suono, e a volte termina e continua a battere. E quindi dobbiamo trovare un compromesso, perché lì sì che non posso permettermi di seguire esattamente l'onda della battuta. Risulterebbe fuori sync, risulterebbe non adeguata, visto che noi doppiamo sul video e non sull'audio. Questa a volte è l'incongruenza che non si comprende, no? Doppiando sul video e togliendo l'audio originale, io devo rispettare quelli che sono i ritmi dei labiali. Allora, sui cartoni si cerca di trovare appunto quel compromesso che ti fa risultare la battuta giusta, diciamo così, forse un po' al limite del corto. Però questa è un'altra richiesta. Ma sai, sono un po' le richieste che ci sono state via via nell'evoluzione di questo mestiere. Io che ho già cominciato abbastanza tardi, a metà degli anni Ottanta, arrivavo già con degli attori molto ben consolidati. Si stava a leggio a due, a tre, la si guardava, la si vedeva, si facevano anche più incisioni. Via via tutto questo è diventato sempre più veloce. Il nostro è un mestiere che ha sempre sommato quantità a qualità. Ed è strano perché non ci sono molti mestieri, attività nel mondo dove la qualità alta corrisponde anche alla quantità. Beh, adesso c'è un po', secondo me, un po' un'inversione. Tanta quantità che è aumentata, perché bisogna produrre, purtroppo però la qualità si sta un po' abbassando. Un po' per le cose che abbiamo detto prima sul discorso dell'essere attori e anche per questi aspetti che ti vengono richiesti. Ma a quale ti devi adattare, devi farli i tuoi gli strumenti? Opporsi non ha senso, secondo me. Cerca sempre di mettere in atto la tua professionalità, adeguandoti a quello che è la nuova richiesta, il nuovo strumento, e fai in modo che il doppiaggio sia, dal tuo punto di vista come direttore, fatto nel miglior modo possibile, con tutti quelli che sono i crismi di questo mestiere e con l'esperienza che arriva da lontano, da molto lontano. Sicuramente tu hai fatto il giro tondo nella sala con tante persone e questo microfono al centro che voi giravate, ognuno faceva la propria battuta, sicuramente. Nella sala di doppiaggio, a questo punto io ti pongo, oltre che alcuni linguaggi americani, ad esempio, oh my god, oh la 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 del turco, a volte il dialoghista ha difficoltà nel riportare queste diciture di altri linguaggi, come ho detto ora è un periodo che fa di moda il turco, sì, ma quando si va appunto, abbiamo detto, una frase da cinque parole in americano sono in realtà dieci, quindici parole in italiano, poi bisogna sintetizzarle, ma dare un senso logico a quel che si legge, soprattutto quello che la gente va a ascoltare. Certo. Guarda, io ho cominciato, la mia attività come doppiatore dialoghista, anzi, in realtà, il mio primo lavoro è stato quello del dialoghista. Nella Merak Film, allora appunto, che frequentavo quotidianamente, mi venne chiesto da CIP, ma tu non saresti interessato a darci una mano con i dialoghi? Anche lì, io non è che ne sapessi molto, quindi ho affiancato dei dialoghisti che allora lavoravano nello studio. Vedi, il fatto oramai di io avere un computer, di avere i file che ti vengono inviati a casa e quindi lavorare nel tuo ambito casalingo è un grande vantaggio per molti, ma è uno svantaggio per quanto riguarda a volte la qualità e l'immediatezza del confronto del lavoro che tu stai facendo. Quando io ho cominciato ad adattare, andavo alla Merak Film, c'erano delle piccole salette con i tre quarti, quindi questi enormi apparecchi, con la moviolina, e cominciavo ad adattare, vedevo, tornavi indietro, facevi tutto quello che fa un dialoghista. Addirittura noi scrivevamo ancora le battute a matita sul copione originale, poi veniva ribattuto o da te se avevi la possibilità di farlo, oppure lo si consegnava, non so, alla segretaria della Merak di allora che a casa alla sera si ribatteva il copione. Il direttore in sala aveva il copione tradotto con le tue note da adattatore scritte sopra le battute, quindi era anche un caos, definiamolo così, riuscire a decifrarlo. Qual era il vantaggio? Che io scendevo un piano, andavo in sala e vedevo immediatamente se il mio lavoro funzionava oppure no. Non avevo bisogno di lasciar passare tempo, ma stavo a scendere. Tutto questo non c'è più, o almeno, è molto difficile che accada. Quando a me capita di chiamare un adattatore, un dialoghista, quasi sempre purtroppo è per dirgli che c'è qualcosa che non va. Io lo chiamo anche se fa un ottimo lavoro, ma spesso mi capita di chiamarlo dicendo guarda, c'è qualcosa che non funziona nei tempi, nei ritmi, nel linguaggio. Ecco, il linguaggio è un'altra delle cose che via via ha perso di valore. I nostri grandi dialoghisti hanno sempre avuto una cura maniacale sul termine, sul linguaggio, sulla consecuzio. Cioè, cose che tu dirai banali. Beh, sì, ma che fanno parte della nostra lingua, della nostra grammatica. Il fatto che un dialoghista debba avere padronanza della lingua è fondamentale. Non ci si può, come dire, improvvisare. Devi avere un minimo di bagaglio culturale e di lessico. Questo ti permette, in una frase, come dicevi tu, in inglese o in turco, che devi ritrovare, riproporla, spezzarla, scombinarla, per rimetterla sulle bocche di quel personaggio nella nostra lingua. E questo è un compito complicato che richiede esperienza, capacità, creatività. E, come sai, nella filiera del doppiaggio l'unico professionista che riceve i diritti d'autore, parlo della SIAE, è il dialoghista. Perché gli viene riconosciuto l'ingegno creativo, non il traduttore, che si limita, io quando dico limito, si limita, il traduttore si arrabbiano, giustamente. Ma diciamo che fa un lavoro un pochino meno complesso, perché devono tradurre, chiaramente facendo un'analisi accurata del testo originale. Quindi, se io devo fare un film in costume, il traduttore deve fare tutto quello che serve come indagine storica del linguaggio, dei modi di dire, della forma, delle relazioni, per permettere poi al dialoghista, se non traduce, parlo di un dialoghista che non traduce, ma riceve la traduzione, di poter affrontare con una certa tranquillità il percorso di adattamento. Però l'adattamento è non solo da sempre fondamentale, ma è diventato anche nelle tempistiche, purtroppo, meno alto nella qualità. per tante ragioni, un po' perché noi non ci siamo più abituati, non siamo più abituati a utilizzare il linguaggio in un certo modo. C'era anche un'idea, permettimi il termine, culturale, di trasferimento, quando tu fai un adattamento che verrà poi doppiato e visionato da un pubblico che ascolta oltre che vedere. E quindi è un trasferimento di informazioni, di nozioni, di termini. Io non sono molto d'accordo sul fatto che debba essere sempre molto parlato. Sì, deve essere parlato, fluido, ben detto, ma se uso un termine che è desueto non vuol dire che non possa usarlo, è usato pochissimo. Ora, non ne voglio fare, come dire, un paladino dei termini della lingua italiana scomparsi nei secoli, però stiamo un po' impoverendo il nostro linguaggio. Io invece penso che il doppiaggio, l'audiovisivo, per come viene praticato in Italia, debba servire, servire a essere anche un piccolo veicolo di trasferimento di cultura, come è sempre stato del resto. Non dimentichiamoci che il doppiaggio è nato anche per questo. Invece a questo punto vi faccio una domanda un po' più sfiziosa. Se in sala di doppiaggio di fronte hai il direttore di doppiaggio che si chiama Pino e davanti hai il doppiatore Pino che sta facendo la sua battuta e poi ti accorgi che Pino in realtà ha fatto che abbiamo detto appunto bravissimo, ha fatto un'edizione perfetta, l'ha utilizzato tutto, però in realtà non ha colpito quella cosa che il direttore aveva intenzione di raggiungere. Come richiameresti o comunque cosa diresti a Pino in quel caso? Io non gli direi come dirla. Questa è l'ultima cosa che farei. Il mio obiettivo è portare l'attore che è in sala a comprendere come vorrei che dicesse quella battuta partendo dal fatto che abbiamo un vantaggio, abbiamo qualcosa di visivo che mi sta già mostrando azioni, fisicità, intenzioni, abbiamo uno scritto che se è fatto in modo adeguato riproduce vocalmente quello che io sto vedendo e quindi il compito tuo doppiatore Pino è quello di aver compreso la scena, aver capito la battuta e cercare di utilizzare il tuo essere attore per trasferire vocalmente le intenzioni che l'attore sullo schermo ha espresso. Io come direttore raramente do un tono a un attore per due ragioni. Il primo perché ritengo che sia molto più importante per l'attore capire personalmente che riprodurre vocalmente perché se io lo porto a comprendere quel bagaglio gli rimane. Se io gli dico come dire la battuta ne fa soltanto un mero esercizio di suono e secondo perché ho molto rispetto per il doppiatore stesso per cui so e sono convinto che lui saprà dire quella battuta se do delle indicazioni giuste. Questa è la mia modalità è la mia modalità. Io ho bisogno che il doppiatore in sala che vada bene ho scelto io perché anche qui entriamo in un ambito un po' stravagante ci sono direttori che a volte non sono molto contenti degli attori che hanno in sala sì a volte può succedere che arrivino attori di cui tu non conosci benissimo la storia o li stai provando o in casi ben peggiori vengono un po' imposti ok però se tu ti sei scelto l'attore sai perfettamente che quell'attore sarà in grado di dire quella battuta il tuo compito è di metterlo a proprio agio e di far sì che con i tuoi suggerimenti se non ha capito delle cose possa arrivare a dirla non siamo come dire tafazzi nel farci del male chiamando attori che non sono in grado in quel momento di poter svolgere quell'attività e quel lavoro o quel personaggio quindi partiamo già da una condizione di base molto alta come direttore del doppiaggio hai fatto anche Lupin la donna chiamata Pucico cosa ricordi di quella serie visto che Miyazaki poi ci ha lasciato ultimamente che cosa ti è rimasto o se cosa ricordi allora di quella serie devo innanzitutto citare Perla Liberatori perché l'abbiamo codiretta Perla ha diretto gli attori protagonisti a Roma e io tutti gli altri personaggi e mi sembra doveroso fare questa citazione una serie molto strana molto particolare che mi sono rivisto qualche tempo fa nemmeno tanto non dico la piattaforma sulla qual è perché era un plot di dieci episodi con dei disegni che rispettavano il disegnatore originale quindi era una sorta di tributo con delle storie anche molto ose nel loro modo di essere anche vietate i 14 diremmo oggi anzi anche allora ma con una al di là della bellezza del disegno perché era molto diverso dai Lupin che conosciamo proprio nell'essere intricate come situazioni erano molto più analitiche nella sfaccettatura dei personaggi e questo è stato come dire la tu importante di quella serie sono anche molto contento perché io e Perla abbiamo vinto a Romics il premio credo che fosse 2015 della serie di cartoni votata dal pubblico di quell'anno e quindi di questo ne sono anche molto contento ma è proprio la serie che era particolare e affascinante da questo punto di vista di quella serie noi abbiamo sia la versione francese che di francese perché è un'edizione speciale che la versione italiana quindi noi siamo fan di Lupin quindi l'ultima domanda ma nel mondo del doppiaggio quando è importante un vocal coach? Nel mondo del doppiaggio è importante se hai o delle problematiche o se non sai gestire la tua vocalità soprattutto in un ambito come quella del range vocale che viene richiesto per certi versi nei cartoni animati allora i cartoni animati come dice la mia autorino è un lavoro da pazzi voi siete dei matti veri a usare la voce in quel modo innaturale vi spaccate le corde vocali e ha ragione lei ok poi è chiaro che devi metterci tecnica controllo capacità espressiva interpretativa però le corde vocali sono sottoposte enormemente a questa difficoltà nella gestione a questo surplus di lavoro e su questo a volte un vocal coach che però abbia la come dire una qualifica attoriale perché sai c'è vocal coach e vocal coach uno per il canto in realtà non serve serve sempre ma non serve perché tu non devi poi cantare devi utilizzare tutto il lavoro sulla respirazione su come la controlli su quanto emetti sulla tua conoscenza del del tuo range vocale quanto riesci ad andare nella profondità nei toni più gravi nei toni più acuti come riesci a gestire alcune fasi vocali a seconda di come se la butti nel naso se la butti in gola a seconda di come mascheri la voce che è soltanto un aspetto tecnico poi su questo devi anche applicare l'aspetto interpretativo e quindi apriti cielo la difficoltà aumenta enormemente è da qui che forse un vocal coach serve fino a un certo punto serve a insegnarti alcuni accorgimenti a prevenire alcuni difetti o problemi che possono verificarsi se usi in modo sbagliato la tua vocalità io ho dei colleghi anche a Milano che hanno dei contatti con dei vocal coach a me è capitato un paio di anni fa ho avuto un piccolo problema vocale mi sono chiaramente rivolto anche a un vocal coach però diciamo che in linea generale non se ne fa uso ecco è un po' quella cattiva abitudine diciamo così che hanno gli attori quando smettono di studiare io mi sono sempre domandato perché un musicista un pianista suona il suo strumento otto ore fa un concerto un ballerino va otto ore in sala prova danza e poi fa lo spettacolo un attore finita la scuola non studia più pensa che basti soltanto il lavoro su un palcoscenico davanti a un microfono poi è chiaro che se uno lavora tanto nel doppiaggio hai voglia a fare pratica ma studiare intendo dire studiare per sé esplorare analizzare avere ancora la voglia e il desiderio di capire quali possono essere i tuoi gradi di miglioramento io non sono una scelta in questo e da tanti anni che non faccio più nulla per me per certi versi ma ti assicuro che per tanti anni non so con Gabriele Calendri per esempio abbiamo avuto modo avuto modo di avere una lunga collaborazione seminari incontri studi io penso che questo sia un buon modo e lo dico alle generazioni dei giovani doppiatori per approfondire il tuo essere attore ecco forse manca un po' questa cosa il fatto della fretta della velocità e del voler raggiungere subito dei traguardi senza aver compreso quali passi si possano fare come si possa esplorare e soprattutto avere la voglia la curiosità di cui parlavo all'inizio mi hai chiesto cosa penso di me all'inizio della nostra intervista ecco penso di essere una persona estremamente curiosa ancora estremamente curiosa allora Pietro grazie grazie dell'intervista grazie per avermi ospitato vi saluto e vi auguro ogni bene studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di Pietro va bene a voi spettatori non cambiate canale tra poco inizierà la mia intervista grazie Pietro grazie